Domani sera Alessandro Haber darà il via all'edizione 2019 di Tones on the Stones, serata alla Cava Seula di Baveno a partire dalle 21.30. Ci sono ancora biglietti disponibili. Haberowski il titolo dello show, uno spettacolo di Alessandro Haber e Manuel Bozzi dedicato a Charles Bukowski. L'attore interpreta, recita, canta, ma soprattutto vive i testi e le poesie originali dello scrittore americano, accompagnato dalla musica elettronica di Alfa Romero e da un visual ideato da Bozzi in una continua interazione con il pubblico. Dopo quest'anteprima, il festival riprende presso la Cava La Bella di Monti a Montecrestese con altri tre appuntamenti. Il 20 luglio l'architeatro Eppietro ospiterà l'Aida per la prima volta il grande capolavoro verdiano in un allestimento immersivo con videoproiezioni su tutte le pareti della Cava. Martedì 23 sarà la volta di No Gravity Show, quando Leonardo arrivò sulla Luna. Ma si celebrano il cinquantesimo del primo sbarco sulla Luna e i 500 anni della scomparsa di Leonardo da Vinci. Per celebrare il mito del volo e quello della Luna, la sfida, l'impossibile e il desiderio di esplorare nuovi mondi, nasce uno spettacolo multidisciplinare ricco di suggestioni che trasforma lo spazio della Cava La Bella di Monte in un palcoscenico lunare. Un racconto visivo, poetico ed emozionante che sfida la forza di gravità attraverso esibizioni in mozza a fiato. Dal 26 al 28 luglio, sempre a Montecrestese, torna infine Next Tones, la sezione del festival dedicata alle arti digitali e ai nuovi suoni. Tre giorni di performance musicali e visive con i più grandi nomi della scena internazionale, dell'elettronica e delle arti multimediali.